Dopo anni di attesa sono finalmente in fase avanzata i lavori di realizzazione del nuovo ingresso alla frazione di Anchiano nel comune di Borga a Mozzano. L'opera richiesta a gran voce da ANAS e dalle varie amministrazioni borghigiane finalmente sembra volgere al termine. La rotonda ormai conclusa permetterà di entrare e uscire da Anchiano senza correre rischi. Grazie infatti alla rotatoria e a una breve bretellina si potrà raggiungere il paese con assoluta comodità e sicurezza. Soddisfatto dell'andamento del cantiere anche il primo cittadino Patrizio Andreucetti che aveva molto lavorato affinché si arrivasse ad una conclusione progettuale e poi attuativa. Un risultato storico, si parlava dagli anni 70 del nuovo ingresso ad Anchiano, finalmente ci siamo arrivati, è quasi conclusa la realizzazione della rotatoria e a breve lo sarà anche la strada di collegamento al paese. Oltre 600 mila euro da parte di ANAS, 130 mila euro da parte del comune per le spropri, un accordo che ha funzionato e che produce un risultato fondamentale per la sicurezza di Anchiano ma direi per il miglioramento complessivo di tutta la statale del Brennero, quindi un risultato storico. Fortunatamente sindaco le buone notizie non sono terminate. Sì, sono iniziati i lavori sotto Corsagna sulla statale del Brennero per togliere il semaforo, una prima parte di un lavoro complessivo che ANAS realizzerà tra la sciottita al vetro e Chifenti, circa 6 milioni di euro di investimento per realizzare una scogliera protettiva a lato fiume che consentirà la messa in sicurezza complessiva di una strada fondamentale per tutto il nostro territorio.